Tengo che, guardiamolo in positivo, la Toscana sta agendo molto bene, la regione toscana sta sviluppando con la propria legge regionale la politica dei 25 milioni per gli alluvionati che ha portato a vedere beneficiato più di 12 mila famiglie, con un primo sostegno che abbiamo dato, con risorse regionali ma contemporaneamente stanno funzionando gli aiuti alle imprese e anche l'aspetto premiale che alle imprese viene dato nei bandi comunitari che stiamo sviluppando per la ricerca, per lo sviluppo e contemporaneamente ecco che ieri con il direttore della protezione civile un rapporto positivo e costruttivo, abbiamo centrato quello che sono gli obiettivi per avere risorse per realizzare quelle opere della difesa del suolo necessarie soprattutto nelle aree della Piana Fiorentina e Pistoiese che hanno visto il reticolato idrico subire i maggiori danni conseguentemente ecco che l'incontro è stato positivo perché ha messo a fuoco quegli interventi in cui ho chiesto al direttore della protezione civile circa 300-400 milioni di euro da inserire nella programmazione del piano nazionale di ripresa e resilienza per realizzare quegli interventi strutturali che ci possano portare a dire che quello che è accaduto nella notte fra il 2 e il 3 novembre non accada più.